Che cos'è? Disgusting, terribile. Questo sì, questo qui è il video che aspettavi, il video che divide le acque tra il non sapere e il sapere per utilizzare la tua di voce. Sto scherzando ovviamente perché in questo video vedremo come usare la voce, in che modo usare la voce, nel senso non che devo fare lì il piacione, sai io sono un esperto, faccio doppiaggio, ok? La voce è tutta impostata, non quelle cose, non perché non siano giuste, ma perché sto dicendo di parlare, di utilizzare la voce in diversi contesti anche se non siamo necessariamente dei professionisti, dove abbiamo bisogno anche di altri elementi. Qui parliamo di come usare la voce, quando stiamo parlando in pubblico, quando ci relazioniamo con gli altri, se abbiamo interesse anche ad avvicinarci in qualche maniera al canto, capire delle differenze che ci sono nella voce per poter comunicare, riuscire anche a portare avanti quello che è il nostro messaggio. Ci sono una serie di cose che in qualche maniera sono collegate, ripeto spesso, ultimamente lo sto facendo più del solito, che la nostra mente, il nostro cervello, non capisce la differenza che c'è tra parlato e cantato. Per cui l'utilizzo e la conoscenza di alcuni registri quando parliamo, ci aiutano ad essere efficaci, senza necessariamente essere precisi, perfetti nell'addizione, tutte quelle cose lì. Significa avere una consapevolezza maggiore. Quindi se hai voglia di conoscere, di saperne di più, intanto ti dico, se è la prima volta che ascolti la mia di voce, di iscriverti al canale in modo che tu possa essere aggiornato su altre tematiche, video come questi. Andiamo a vedere invece il nostro video, quello di cui parliamo, cioè di come usare la voce. Voglio partire da alcune considerazioni, ti faccio vedere le slide, di alcune considerazioni che faccio sulla base delle persone con la quale mi confronto spesso sull'utilizzo della voce. Tieni presente che la voce è quel elemento che poi alla fine può anche deturpare, rovinare anche un messaggio, nel senso che io posso comunicare tristezza, gioia, rabbia, tutte queste cose qui, ma devo ovviamente portarle insieme con la mia di voce. E viceversa, quando non sono consapevole, la voce può tradirmi. Perché io posso dire di essere, come stai? Sto bene. Però la voce mi sta chiaramente tradendo. Alcune considerazioni di base da fare. Allora, voce per sedurre. Madonna mia. Questa penso che sia una delle cose più, non so, dirti incomprese o fatte perché forse conviene vendere una certa idea. Ma la voce per sedurre, che cosa significa? Non esiste una voce per sedurre. O perlomeno esiste la voce profonda. La voce quella che parli, insomma, così, capisci? Ciao tesoro. Ecco, quelle cose lì. Ma non ha senso quella voce messa in quella maniera. È soltanto uno strumento. E poi immagina tu come se avessi, non so, il sax, non so se ti piace, come suono, e allora il sax in qualche maniera, se è messo in alcuni contesti, suonato in una certa maniera, può piacermi. Però se il sax comincia a stare lì e suona sempre comunque delle note basse, fermo, cosa mi dice il sax se non è messo in un contesto? Nulla. Per cui questa fissazione di avere la voce per fare certe cose deve essere in quella maniera, come se fosse quel tasto unico. Immagina, sempre stando in tema di strumenti musicali, immagina un piano, ok, e sempre con la stessa nota. Che palle. Cioè, è così quello che succede. Per cui la voce per sedurre, più che voce per sedurre, è una scala, è un registro che possiamo avere della nostra voce, è un tasto che deve essere utilizzato alcune volte e altre volte no. È quello che dobbiamo capire. non la voce, è così, è il tasto, non è un tasto. La luce l'accendi, se l'accendo sotto il sole la luce non si vede, non ha senso che esista. Per cui evitiamo di queste cose, diciamo, la voce è così, la voce è profonda, la voce è profonda, la voce è profonda, le donne ti cascono addosso. Ma che minchiolata è, ok? Seconda, la voce acuta per la rabbia. Anche lì, voce acuta, scritto così, ma è per dire anche la voce un po' alta, quella cosa lì. Allora, anche qui è una questione di percezione. È vero, quando noi sentiamo una voce alta, una voce che magari va verso l'alto, quindi sia alta di volume e sia alta di tono, possiamo fraintendere, possiamo percepire in modo diverso le cose. Spesso si associa a queste immagini la rabbia. Mamma mia, ma sei arrabbiata, sei arrabbiato, che cos'hai? E tantomeno, però non è sempre detto che sia così, e d'altro canto, neanche avere la voce, utilizzare una voce acuta, alta, significa sinonimo di rabbia. Sono sempre le solite cose, è solo un tasto, ok, di questa grande tastiera che abbiamo. Per cui anche questo vale come il discorso della seduzione. E anche quando uno canta non è che dice, deve avere la voce bassa, ma la voce bassa quando la devi avere? In che momento la devi avere? In quale attimo? Non sempre. Cioè, è come sentire lo stesso tono? Che palle! Cioè, è così. Dopodiché, questa è una cosa che ultimamente ho ricevuto un paio di domande da ragazzi che giustamente, chi è giovane, la voce è molto acuta, molto, sembra una bambina, sembra un bambino, questo intanto se sei giovanissimo è normale che sia così. La voce ha bisogno di un percorso, una maturità. Io avevo la voce, avevo la voce, aspetta ogni tanto che mi sei sbagliato, avevo la voce, è molto stridula, poi tra l'altro da adolescente era molto, sembrava veramente una bambina, poi ovviamente la voce è maturata, è cambiata, quindi questo è un percorso normale. Poi da adulti ci sono dei casi in cui questa voce picchia in testa, potremmo dire, è troppo alta, ok? E allora potremmo dare quella percezione di voce troppo giovane. E poi invece senti una persona adulta che ha magari anche fumato, che è una cosa terribile, che fa, ciao, buongiorno, che ha questa voce un po' troppo bassa. Anche qui vale la stessa cosa, dipende dal contesto in cui ci troviamo, perché non significa voce giovane in quanto acuta, voce profonda, significa il solito discorso, immagina questa tastiera, sono tanti suoni che vanno combinati tra di loro per riuscire a portare un messaggio, così. Se no, non è voce bassa, voce media, voce alta, sono tutte delle cazzolate messe lì giusto per parlare, non lo so, ma non possiamo stare con la monotonia di qualsiasi livello esso sia, ci dà comunque fastidio. Andiamo a vedere, eccoci qua, ok. Dovremmo partire da un'analisi della nostra voce. Non è facile all'inizio, te lo dico, perché se non siamo abituati ad ascoltare la nostra voce, la sentiamo come estranea. Quindi c'è già questo passaggio da dover superare. Cosa significa? Io, per esempio, mi sono abituato ad ascoltare la mia di voce, quando sto parlando, perché adesso quando ascolto il video, appena finisco di registrare, oppure che non ascolto un audio, la mia voce mi sembra quella di sempre, perché mi sono abituato. Però all'inizio la voce che io sento, cioè quella voce che tu utilizzi, è diversa perché è amplificata, modificata dalla scatola cranica. Quindi quello che io sento è la mia di orecchie. Poi una volta che la mia voce viene registrata attraverso un microfono, attraverso qualsiasi, potrebbe essere anche il telefonino, il microfono del telefonino, già cambiano alcune cose. Quello che ascolto la sento come estranea. Quindi questa estraneità mi fa dire Eh? Questa è la mia voce? Che cos'è? Disgusting, terribile. Che cos'è questa cosa terribile? Superato questo passaggio di consapevolezza, di conoscenza della nostra voce, dovremmo capire dove si trova la nostra voce. Che voce abbiamo? Per cui un'analisi vocale ci consente di capire che se io ho la voce troppo in testa, riesco a capire se la devo portare giù, oppure se la devo regolare. Se non parto da quello è un po' come avere un'auto. Cioè io come faccio a capire se l'auto sta andando fuori strada, capisco in quale strada sta andando sbagliata, la porto su quella giusta. Ma se io non conosco nessuna delle due strade, come cacchio faccio a sapere qual è quella giusta? Per cui abbiamo bisogno di punti di riferimento. Per quanto non è eccezionale, è chiaro che dovresti confrontarti con un esperto che ti possa ascoltare. Io infatti delle volte faccio mandare delle registrazioni, oppure poi mi incontro con delle persone, faccio parlare per capire anche quando devi comunicare, dove va la voce e in che modo tu la possa utilizzare. Nel momento in cui tu ti registri, cerchi di capire se ad esempio la tua voce è nasale e è facilmente capibile, si ascolta un po' di più, ma se la voce è di testa oppure di petto, cioè queste cose bisognerebbe cominciare a capirle, anche giocando un po' con la voce, spostare la voce, la voce da bocca oppure di gola. Quindi ci sono alcuni elementi. Una volta che faccio queste analisi, posso passare a vedere come, magari ho una voce troppo bassa, solo di petto, buongiorno così, la posso portare in alto? Quindi utilizzo una voce di testa e la voce di testa può essermi utile. In quale caso? Nel caso, per esempio, io devo dimostrare entusiasmo che vede una persona. Non posso, l'entusiasmo non lo posso, è difficile che vada ad utilizzare una voce bassa, una voce, voglio estremizzare nei termini, una voce di petto, ok? Una voce quella profonda. E meglio più entusiasmo. Ciao, come stai? Ok, la voce che va verso l'alto e quello proprio perché la utilizzo, in quel momento mi serve il tasto per l'emozione, scusami, per l'entusiasmo, ok? Quindi è lì il discorso. Quindi io so che registro, ho imparato che registro, ma poi devo cercare di deviare, di muovere questa voce. È lì che devo applicarmi. La voce di petto, che è quella lì che tanto viene ricercata, capisci? Ciao tesoro, come stai? Ok. Questa voce, oppure con la pausa, è esitante. Ora sto, e sto enfatizzando, sto facendo lo scemo abbastanza, ma è per capire che anche qui il discorso è uguale. La voce profonda, sicuramente qualcuno ha la voce più profonda di un altro, una voce un po' più curata, una voce dove ha lavorato molto. Però, però, anche questa, in base a che momento la vada ad utilizzare, perché l'entusiasmo, come dicevo prima, con la voce di petto può anche... sono entusiasta di vederti, però sai, sono entusiasta di vederti. Invece la voce si potrebbe prestare a un'altra cosa. Sì, è vero, magari un messaggio d'amore. Ciao tesoro, eh? Come stai? È chiaro, poi, sto esagerando, sappilo, però è per capirci. Chiaramente, anche qui, metto un abito grigio in un contesto grigio, metto un abito floreale colorato in un contesto gioioso e uguale. Quindi, togliamoci dalla testa, sta cazzolata ogni volta di avere questo rispetto a quello. La voce va usata in questa maniera. Ora, io qua ti ho fatto vedere una serie di voci e poi ti ho scritto equilibrio. Perché ti dico questo? Perché intanto ti ho fatto... Ci sono tanti registri, però, voce di testa, insomma, voce alta, voce di petto, una voce, un registro misto che potrebbe essere di gola, ciao, come stai? Insomma, posso giocare su queste cose, però alla fine, alla stragrande maggioranza, facendo finta di avere due livelli di voce, due note, esagerato però, due note, è sempre meglio che averne una monotona su un sempre solo o soltanto tasto. Quello che dovremmo avere in una maturità vocale nella conoscenza della comunicazione è quello proprio di un sano equilibrio, come ti ho scritto. Un equilibrio tra la voce che utilizziamo, il messaggio che vogliamo portare. È inutile soffermarsi lì a pensare la voce profonda o la voce di testa. No, bisogna avere un equilibrio. Un equilibrio è capire esattamente quando utilizzare questo tasto per riuscire a portare avanti il nostro messaggio. E qui ti lascio un video, qualora volessi approfondire un po' di più come migliorare la tua voce. Grazie. 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 Grazie.